Salve a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Mirko e questo è un nuovo video. Nel video di oggi andremo a parlare di un argomento che riguarda un po' tutti, di un problema che riguarda un po' tutti noi, sicuramente riguarda un po' tutti noi, ovvero la lettura. In particolare si tratta di un video book tag, quindi andremo a rispondere a delle domande. Non ricordo esattamente dove ho trovato questo book tag, comunque nel link in descrizione vi lascio sia le domande, se volete rispondere appunto sui vostri canali, e anche il link da cui questo tag è stato preso. Come vi dicevo appunto parliamo della lettura in quanto problema, della lettura in quanto addiction, della lettura in quanto passione, quelle che sono in qualche modo un po' le nostre abitudini letterali e tutte però riguardanti appunto il concetto di ossessione verso la lettura. Sono una serie di 14 domande, una l'ho tolta perché mi sembrava alquanto superflua e anche un po' cringe, quindi sono diventate 13 le domande a cui andremo a rispondere. Come vi ho detto appunto, trovate tutto sotto nell'info box e partiamo con la prima domanda. Prima domanda che ci chiede, qual è il tempo massimo che puoi trascorrere senza cominciare a leggere un nuovo libro? E già da questa prima domanda, dalla sua risposta, si capisce quanto per me la lettura sia una vera e propria ossessione. Non esiste effettivamente per me un tempo tra una lettura e l'altra, cioè io appena finisco un libro ne comincio immediatamente un altro. Magari può passare un giorno da quando lo comincio, ma per cause di forze maggiori, altrimenti comunque sono un lettore che appena finisce un libro, perdonatemi, inizia immediatamente un altro. Non credo sia mai capitato che mi prendessi una pausa effettiva dalla lettura, nonostante abbia avuto molto spesso blocchi dei lettori e sono in qualche modo sempre riuscito a gestirli e ho trovato anche sempre dei libri che in qualche modo mi permettessero di non far passare tanto tempo da una lettura e l'altra. Quindi questo in qualche modo vi fa già capire tanto. So che ci sono tante persone che si prendono delle belle pause da una lettura e l'altra, ma comunque in generale credo che questa sia una prerogativa di tutti i lettori forti, cioè quello di cominciare immediatamente una nuova lettura dopo averne finita un'altra. Cioè credo che tutti i lettori forti in qualche modo condividano questo aspetto. Seconda domanda, quanti libri porti con te contemporaneamente? Questa domanda un po' accampata in aria, ma ok. Io ovviamente porto con me un libro, generalmente, quando sto leggendo il libro in cartaceo mi porto dietro un libro in cartaceo, altrimenti ho l'ebook dove ci sono tutti i libri che ho in ebook, quindi sono incalcolabili, non so quanti libri effettivamente ho dentro al mio e-reader. Poi ovviamente ci sono delle situazioni in cui magari parto per qualche giorno e tendenzialmente ormai da qualche anno a questa parte, ogni volta che parto mi porto il mio e-reader. Non porto più libri cartacei con me quando viaggio, questo per due motivi. Principalmente il primo motivo è che ho paura di rovinarli e il secondo motivo è che ovviamente è più comodo avere il piccolo e-reader compatto da mettere dentro lo zaino piuttosto del libro voluminoso che ti occupa spazio. Quindi sì, comunque porto con me un libro, generalmente, oppure il mio e-reader con tanti libri dentro. Conservi tutti i libri che acquisti, ricevi, o sei felice di venderli, regalarli per fare spazio ad altri titoli? Ovviamente io sono un po' un accumulatore seriale in questo e faccio anche difficoltà molte volte a separarmi da un libro. Mi separo da un libro proprio nel caso in cui A magari non mi interessa e quindi ho ricevuto questo libro, mi è stato regalato questo libro e quindi magari lo dono oppure lo regalo a qualche mio amico. Altrimenti se il titolo in qualche modo mi interessa aspetto veramente tantissimo prima di darlo via, ma giace nella mia libreria in attesa magari di una qualche illuminazione. Sono uno che appunto tende molto a tenere tutto per sé perché amo l'oggetto magari in alcuni casi e quindi è difficile separarne se neanche per una questione di collezionismo o per tanti altri motivi. Poi ovviamente ci sono stati dei momenti in cui la mia libreria era così tanto piena che sono in qualche modo stato costretto a separarmi da alcuni titoli, quindi o li ho venduti oppure li ho donati in libreria o ancora li ho regalati, però tendenzialmente sono uno che in qualche modo, ecco, si separa difficilmente dai libri, proprio o non mi sono piaciuti o non mi interessano minimamente, però in qualche modo anche se magari il libro non mi ha fatto impazzire, ma ho un ricordo particolare legato a quel libro, tendo a non separarmene. Lo so, è un grande problema perché poi lo spazio è qualcosa di sfuggevole e quindi ovviamente si riempiono facilmente le librerie ed è capitato molto spesso che avessi problemi di spazio, quindi in alcuni casi effettivamente sono stato anche costretto proprio per quel motivo a regalare o vendere libri. Però sì, diciamo che non è il primo pensiero quello di dare i miei libri per far spazio nella mia libreria, in qualche modo trovo lo spazio per i libri, ci sono sempre riuscito, armadi, cassettoni sotto al letto, ovunque. Quarta domanda, quanto tempo passi in libreria durante un classico giro? Allora, è cambiato molto il mio rapporto con la libreria in questi ultimi anni e questa è una cosa che devo dire un po', in qualche modo soffro, perché da un po' di tempo a questa parte non sono più solito fare i miei classici giri in libreria. Qualche anno fa i miei classici giri in libreria duravano veramente tantissimo tempo, ma era anche un momento in cui compravo molto meno online, era anche un momento in cui leggevo molto di meno in ebook, quindi il libro fisico era per me di primaria importanza, oltre al fatto che per me il classico giro in libreria è sempre stato qualcosa di estremamente sacro e importante, cioè io per tanti anni della mia vita, almeno una volta a settimana, se non due, un salto in libreria, un giro veramente importante in libreria l'ho sempre fatto e durava da mezz'ore alle ore intere, per cui è sempre stato qualcosa di veramente molto importante per me. Come vi dicevo però, negli ultimi anni questa mia abitudine è cambiata considerevolmente. Ora raramente vado in libreria. In quei rari casi in cui vado in libreria per fare un giro sono sempre molto veloci o sbrigativi, magari perché voglio vedere una particolare edizione dal vivo oppure perché devo fare un acquisto veloce, altrimenti i miei giri in libreria, ecco, sono davvero molto molto sporadici e molto veloci perché ormai la tecnologia purtroppo mi ha fagogitato ed è una cosa che mi dispiace moltissimo. Poi ovviamente capita magari quando sei con qualche amico o sei in una bella libreria, ti fai quei grandi giri, però ecco nelle librerie che ho intorno sono sempre cose molto veloci, non faccio più quelle giornate intere a sfogliare, a passeggiare tra i libri, anche perché non ho più tempo. Questo è un fattore molto molto importante. Quindi sì, diciamo che questa mia abitudine è davvero cambiata drasticamente nel corso degli anni e mi dispiace, cioè mi dispiace veramente tanto perché è una cosa che amavo fare, cioè perdermi tra gli scaffali in libreria, penso che sia una delle cose più belle del mondo. Quinta domanda, quanto tempo al giorno dedichi effettivamente alla lettura? Dipende, tendenzialmente io cerco di leggere minimo un'ora e mezza al giorno e ci riesco quasi sempre. Molto spesso appunto mi capita di dedicare la mia intera pausa pranzo alla lettura, quindi magari un'ora pausa pranzo la dedico a quello e già lì ce la siamo fatta e poi appunto la sera comunque quell'ora, ora e mezza, cerco sempre di leggere qualche pagina e di andare avanti con le mie letture. E non è una cosa che mi forza a fare, ma è una mia abitudine. Prima ovviamente dedicavo molto molto più tempo, la sera era praticamente completamente dedicata alla lettura, leggevo dalle 10 di sera all'una di notte, ora però con il tempo che scarseggia eccetera eccetera faccio un po' più di difficoltà, questo è sicuramente vero. Però proprio nei rari casi in cui, non lo so, abbia qualche impegno particolare o non sia a casa e quindi capita che ci siano giornate in cui non leggo veramente niente, tendenzialmente durante la settimana dedico sempre tempo alla lettura. Nel fine settimana ancora di più, durante appunto il giorno mi capita di leggere magari dopo pranzo una mezz'oretta oppure metà mattina, dipende insomma da quello che ho da fare, però ecco l'importante per me è che quell'ora di lettura io la faccia sempre durante la giornata, è in qualche modo purificatrice, cioè mi fa sentire a posto con me stesso e sto bene. Sesta domanda, in quale parte della giornata ti dedichi alla lettura? Appunto come vi dicevo prima, principalmente alla sera, dopo cena oppure in pausa pranzo e nel weekend dipende, durante la giornata comunque cerco di ritagliarmi degli spazi per poter leggere, magari qualche volta ho più tempo, più voglia e quindi leggo di più, dipende appunto un po' dal mood, dalla giornata, da quello che ho da fare eccetera eccetera. Però ecco, sicuramente una certezza è quel momento serale dopo cena in cui effettivamente mi costruisco questo spazio tutto per me. Settima domanda, quanti libri pensi di possedere in totale? Io questa domanda non so assolutamente rispondere, non ne ho assolutamente idea. Ovviamente credo che abbia più di mille titoli, tra quelli che ho in libreria, anche in questa libreria, oppure che ho nelle librerie in garage, ne ho diverse di librerie, sicuramente ho superato i mille titoli, non considerando i manga, i fumetti, non ne ho idea, cioè non è una domanda tra l'altro a cui sono curioso di rispondere. Magari un giorno conterò tutti i libri che ho in libreria, ma non ho nemmeno voglia e sbatti proprio di farlo, quindi questo dato non ci interessa. Ottava domanda che ci chiede, quanto spesso parli di libri durante una conversazione? Anche qua dipende molto dall'interlocutore, se l'interlocutore è interessato a parlare di libri potremmo stare lì per ore, giorni, settimane, mesi e non annoiarci mai, altrimenti è difficile parlare di libri con qualcuno che non ama leggere, anche uno dei motivi per cui sono qua su internet e per cui ho cominciato a parlare di libri su YouTube era che effettivamente non avevo tantissime persone con cui condividere questa passione. Però sicuramente quando c'è un libro che mi rapisce particolarmente, tendo molto a raccontare della lettura anche a persone, amici, che non condividono questa mia passione e divento petulante, comincio a raccontare di personaggi, cose, o quanto è figa questa scena in particolare, quindi comincio a raccontare cose, però appunto ovviamente dipende dalla persona con cui sto avendo la conversazione. Nonna domanda, qual è il libro più grande, il numero di pagine, che hai finito di leggere? Sicuramente Parola di luce di Brandon Sanderson, credo che attualmente sia il libro più grande e più voluminoso che io abbia mai letto. È un libro già enorme, ma anche all'interno, ecco, è scritto tipo minuscolissimissimo, quindi credo che effettivamente sia il libro più grande con più numero di pagine che io abbia mai letto, anche secondo Goodreads, quindi Parola di luce, che tra l'altro è uno dei miei libri preferiti di sempre, quindi... Decima domanda ci chiede, c'è un libro che hai letto contro ogni previsione? Questa è una domanda che mi mette un po' in difficoltà, perché in verità tutte le letture che faccio, tutte le mie letture, sono portate avanti da delle motivazioni che sono magari in alcune case più valide di altre, partendo dalla basica motivazione che il libro mi interessava a prescindere oppure perché è stato scritto da un autore che ho amato precedentemente, ecco, comunque sono tutti i motivi che mi portano a fare le mie letture. Ci sono molte volte libri che leggo perché magari non sono il genere di libro che leggo, ma hanno avuto particolarmente successo e quindi mi interessa scoprire il motivo dietro questo successo, quindi c'è sempre una motivazione per cui leggo quel libro, cioè non vado mai contro ogni previsione in qualche modo. Forse la più recente è la rilettura di Shattermy e soprattutto l'aver letto il secondo e il terzo libro della trilogia perché contro ogni previsione effettivamente non avrei mai pensato di concludere la prima trilogia di Shattermy dopo la lettura, appunto la prima lettura del primo volume della saga fatto dieci anni fa, però alla fine dopo dieci anni l'ho conclusa e con grande dolore, ma questo è un altro discorso, quindi forse a questa domanda mi viene di rispondere così perché non ho altro in mente. Undicesima domanda. C'è un libro che hai faticato a finire perché ti sei rifiutato di non concluderlo? Ultimamente capita molto meno spesso di quanto non succedesse tantissimo tempo fa, sono sempre stato un lettore che comunque ha concesso infinite possibilità ai libri, quindi magari nonostante la prima parte non mi stesse piacendo sono sempre riuscito ad arrivare alla conclusione perché magari migliora e poi spoiler, non migliora, però vabbè, io perché ci credo. Ultimamente però sono molto più selettivo su queste cose, quindi se un libro non mi sta piacendo non gli do nessun'altra possibilità, cioè semplicemente non mi sta piacendo, sta togliendo del tempo a dei libri che invece potrebbero piacermi e quindi preferisco effettivamente non concluderli, lasciarli a metà e andare avanti. Questa sensazione però di lasciare qualcosa a metà, di lasciare un libro a metà, di lasciare una storia a metà, mi ha sempre fatto uscire fuori di testa. Ultimamente è qualcosa che tendo a non fare, ma è successo sicuramente con Ray Berard. Mi sono davvero forzato ad arrivare alla conclusione del libro. Il libro non mi ha preso fin dall'inizio in realtà, nonostante ci vedessi qualcosa di molto interessante sotto e questo sicuramente è quello che mi ha spinto ad andare avanti nella lettura, perché non è un libro brutto, è semplicemente un libro che a me non è piaciuto e ho faticato davvero tantissimo ad arrivare alla conclusione, però ce l'ho fatta. Dodicesima e penultima domanda. Quali sono alcuni dei tuoi principali obiettivi per il 2023 o il 2024 se hai pianificato qualcosa? I miei obiettivi per il 2023 sono sicuramente leggere le tantissime cose che ho in TBR e che mi interessano tantissimo. Il primo obiettivo sicuramente per il 2023 è riuscire a leggere tutte le cose che hanno la precedenza nella mia TBR per quest'ultima parte dell'anno. Ci sono tanti libri che voglio leggere, che mi incuriosiscono e che ci tengo davvero a concludere prima del 2023. E un altro grande obiettivo è sicuramente concludere alcune saghe. Mi viene in mente quella dell'Apprendista Assassino, mi manca l'ultimo volume per finire la prima trilogia. The Dress Then File, anche qui mi manca l'ultimo volume. Quindi ci sono effettivamente diverse saghe che vorrei concludere per la fine del 2023 in modo appunto da non rimandare eccessivamente la conclusione di queste storie. Poi banalmente un altro obiettivo è quello di non leggere libri brutti, ma questo che penso che sia scontato. Per quanto riguarda il 2024 in verità non ho ancora pensato a nessun tipo di piano di lettura, quindi ecco diciamo che siamo ancora relativamente lontani da quel momento ed è qualcosa di cui si occuperà il Mirko dei prossimi mesi. Quindi per il 2024 non ho ancora nessun piano, per il 2023 invece ci sono cose che vorrei portare a una conclusione e leggere. Tredicesima e ultima domanda. Hai mai avuto il privilegio di convertire qualcuno alla lettura? Sì, in verità sì, molto spesso ci sono tantissime persone che mi scrivono proprio per questo motivo. Di qualcuno invece vicino a me è successo? Nessuno è diventato un lettore onnivoro come me, nessuno è diventato un lettore forte come me, nessuno... non sono riuscito mai a trasmettere a qualcuno di vicino a me l'ossessione per la lettura, però ho fatto leggere tantissimi libri a persone vicino a me che magari avevano letto poco e niente nella loro vita, che siano graphic novel o fumetti o appunto veri e propri libri e alcune di queste persone comunque hanno in qualche modo ampliato il loro numero complessivo di libri letti durante l'anno, quindi questa è una cosa che ovviamente mi rende molto molto felice anche perché questo significa che magari ho più persone vicino a me con cui parlare di queste letture. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo tag. Io spero che comunque come sempre vi abbia in primis tenuto compagnia e vi abbia divertito e che magari abbiate anche conosciuto alcune cose in più su di me. Come vi dicevo all'inizio trovate tutte le domande del tag nell'info box se siete interessati a rispondere anche voi a questo tag, ma la domanda per voi di questo video, riprendendo quelle del video tag ovviamente, anzi le domande per voi sono due. La prima è quanto tempo trascorre per voi da una lettura e l'altra e soprattutto quanto tempo effettivamente concedete alla lettura durante le vostre giornate. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, noi ci leggiamo nei commenti e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti!